buongiorno buongiorno a tutti oggi vi parlo di questo libro qua un libro di Amos Oz conoscere una donna un libro che non avevo mai sentito che non conoscevo non sapevo neanche esistesse e l'ho trovato in una a metà presso al libraccio ed è un bel libro uno dei primi libri che ha scritto perché credo sia stato scritto nell 89 e nel 92 è stato stato amoso 89 quindi un libro abbastanza tra i primi che ha scritto di che cosa parla questo bel libro parla di un ex agente dei servizi segreti israeliani joel che vive in israel al quale è morta la moglie in un incidente domestico si è fulminata e lui ha smesso di lavorare è andato in pensione abbastanza giovane e non trova più vive con la figlia e probabilmente con dei problemi di epilessia e con la madre e con la suocera che hanno fatto amicizia questi quattro stanno in una casa nuova la periferia di tel aviv vivono lì e lui perde le sue giornate non riesce a trovare un uno scopo della sua vita passa il giorno aggiustando le cose tenendo in perfetto ordine la casa facendo brevi attività però non fa niente vive una sorta di inedia gli offrono di ritornare a lavorare per un brevissimo periodo pochi giorni andare a bangkok per concludere diciamo un'operazione lui non ci va rifiuta di andarci la persona che va al suo posto viene uccisa lui sapeva che c'era qualcosa di losco e non ha voluto andarci anche per questo e c'erano vari fatti la figlia cresce naturalmente va abitare all'universo dove c'è l'università a gerusalemme le due nonne in qualche modo continuano a vivere con lui e lui si trascina in questa vita non riesce a trovare uno scopo però ragione molto su se stesso perché non riesce a trovare uno scopo perché prima era abituato a una vita dove lui aveva sotto controllo tutto quello che succedeva il suo il suo lavoro era quello di conoscere le persone in giro per il mondo aveva sei passaporti eccetera e in qualche modo scovare delle trame conoscere dei traditori gente in grado di aiutare israele insomma non ha mai tirato fuori la pistola in vita sua non faceva attività di questo genere però insomma era un lavoro di intelligence molto molto attento adesso non deve più fare questo lavoro di intelligence ma continua qualche modo avere questo atteggiamento di estremo controllo sulla situazione incapace di liberarsi incapace di trovare un qualche altra motivazione per per vivere alla fine in qualche modo la trova in qualche modo si scioglie questa sua rigidezza conosce un po di gente a qualche amico una un'amante la vicina di casa di origine americana con la quale insomma fa se alcuna qualche notte però insomma è tutto questo un trascinarsi fino alla fine dove finalmente dopo un po di tempo un po di anni si libera di questa sua di questi suoi legami di queste sue catene che lo legano ancora al ricordo della moglie e del suo lavoro e del modo con cui faceva il suo lavoro ecco è un bel libro si legge molto bene lui racconta è bravo delle descrizioni amo sossa anche utilizzando per esempio le ripetizioni di alcune descrizioni le ripete per in qualche modo concentrarsi sulla per fare come dire meglio apparire la 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 il modo di pensare il modo di essere di questo nostro di questo nostro protagonista è un bel libro un libro rilassante nel libro che entra come molti altri di amo sossa nella storia di israele in qualche modo si si prende in carico tutti gli aspetti legati allo sviluppo di questo paese non c'è nulla per esempio della sua giovinezza presso i kibbutz che hanno dato origine a molti bei libri di spesso nostalgici diamo sossa insomma al libro che insomma merita di essere letto si capisce qualcosina di più di oz e anche della sua modalità di raccontare non è ancora uno dei capolavori del nostro autore però merita di essere letto buona lettura ve lo rifaccio vedere naturalmente conoscere una donna credo sia uscito in altre edizioni questa è proprio quella vecchia però se vi interessa la cercate voi buona lettura ancora grazie grazie grazie